Signore e signori, visto le difficoltà nell'attuale momento storico e la crisi nel campo dell'edilizia, tutti coloro i quali, come la Burlo di Sassa, vorranno dimostrare di avere talento, doti e capacità, essendo confevoli da avere infranto alla pubblica morale, saranno condannati a vivere il resto dei loro giorni nella Repubblica del Paese dei Ciuci. Un Paese dei Ciuci, Un Paese dei Mordi, Un Paese dei Santi, Un Paese dei Sordi, Un Paese dei Cia Un Paese dei Sordi, Un Paese dei S Homeri, Un Paese dei Ciuci, Un Paese dei Spot sundi, Un Paese dei Sordi, Un Paese dei Sordi eerktimi suoi devret트, Un Paese dei Sordi, Un Paese dei Sordi eировать estarju gli scuttni, Un Paese dei Sordi, Un Paese dei Sordi, Un Paese dei Sordi eías fenei izahegge dell'edizia, Sous-titrage Société Radio-Canada ... Grazie a tutti, sono molto felice stasera di fare parte della Prunori Sassi e di questa splendida piazza di Reale. Grazie a Settembre del Vesco e grazie a Dario Brumoni e alla Prunori Sassi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.